Scuola si riparte. Oggi migliaia di studenti sono tornati ad animare i corridoi e le classi, rimasti deserti per tanti mesi, troppi a causa dell'emergenza sanitaria. Alle 8 di questa mattina, alla primaria Fabio Tombari di Bellocchi di Fano, tanti sono stati gli alunni che si sono affrettati ad entrare. Gli sguardi sorridenti da sotto le mascherine a cui i bambini sembra non facciano più nemmeno caso, le mani dei più piccoli strette a quelle dei genitori, mentre altri, ormai esperti, si sono avviati in modo deciso verso l'ingresso. Una nuova ripartenza con la pandemia ben lungi dal terminare, ma se il distanziamento, gli orari di ingresso scaglionati e tutte le regole anti-covid che rimangono in vigore sono ormai ben salde nella routine di bambini e docenti, la novità assoluta di quest'anno è l'ingresso nelle scuole del Green Pass. Da decreto, infatti, l'obbligo di esibire la certificazione verde per entrare nel plesso non riguarda solamente il personale docente e gli operatori, ma anche i genitori e i familiari che accompagnano i figli a scuola e non solo. Tanti sono i fanesi che si sono mostrati d'accordo con la nuova disposizione. Serve per tutelare tutti quanti sostanzialmente. Da bambini abbiamo fatto tutti i vaccini, nessuno si lamentava, quindi è anche una forma di rispetto verso gli altri. Ci siamo vaccinati, dimostriamo che ci siamo vaccinati e superiamo questo periodo. Sono d'accordo, secondo me è necessario, per garantire la sicurezza a un po' di tutti, quindi io sono d'accordo. Lei al Green Pass questa mattina è stato chiesto? Non è stato chiesto, io comunque ce l'ho, però no, non è stato chiesto anche perché non entriamo dentro la scuola. Io lavoro nell'ambito scolastico, quindi sono molto favorevole, che la scuola ha comunque un ambiente molto eterogeneo e va protetto. È un segno di civiltà e la gente si deve adeguare. Che piaccia o non piaccia è una regola importante, quindi è bene che la gente si adegui a questa nuova normativa. Si tratta di convivere per essere tutti più sicuri, quindi se il Green Pass serve sono favorevole. A lei invece è mai stato chiesto anche per accompagnare? No, qui a scuola no, ancora poi siamo all'aperto, voglio dire, poi i genitori all'interno della scuola non entrano, quindi non penso che venga richiesto all'interno della scuola ai genitori, voglio dire, non ci permettono di entrare a scuola. Il Green Pass verrà chiesto ai genitori e familiari all'ingresso della struttura, non solo per accompagnare o riprendere il proprio figlio, ma anche per partecipare a riunioni e colloqui, senza, non è possibile entrare. La questione non ci tocca, hanno spiegato alcuni genitori, sono tutte pratiche che svolgiamo online. Le riunioni per adesso sono tutte online, non sono in presenza, come colloqui, poi se in un futuro saranno in presenza penso che adotteranno le misure restrittive con il distanziamento. Tutte le riunioni che abbiamo fatto, poi sostanzialmente sono state due, sono state in modalità online. Il Green Pass in mattina ti è stato chiesto? No, all'entrata no, comunque non abbiamo avuto accesso alla scuola, c'è stato detto prima che non potevamo accedere proprio per questioni di assembramento. Ma io sinceramente sono d'accordo perché per tutti i bambini che sono sempre raggruppati quindi faticano anche a stare magari distanziati e quindi penso che noi genitori dobbiamo in qualche maniera dare l'esempio.